Ben ritrovati ai telespettatori di Telechiara dalla redazione della Vita del Popolo di Treviso, io sono Lucia Gottardello. Presentiamo il numero che è stato stampato ieri e che già i nostri abbonati potranno trovare tra oggi e domani nelle loro case. La prima pagina è dedicata all'Unità d'Italia, 150 anni che festeggiamo il 17 marzo. Abbiamo voluto fare qualcosa di particolare, di locale, andando a sentire una classe nel liceo classico di Castelfranco. Che cosa pensano di questa ricorrenza, se per loro è soltanto una giornata di festa in più o di vacanza dalla scuola, o se l'Unità d'Italia in effetti dice qualcosa anche ai giovani d'oggi. Abbiamo scoperto delle cose non proprio positive per i giovani. Sempre riguardo all'Unità d'Italia, qui dedichiamo due pagine, qui mettiamo anche tutti gli appuntamenti che invece ci saranno nelle principali località della diocesi di Treviso. Per quanto riguarda invece altre segnalazioni che vi voglio fare per questo numero, abbiamo chiesto al psicologo Don Severino Di Pieri, del Cospes di Emogliano, di proporci una riflessione sul male e sulle ultime vicende che hanno interessato in particolare giovani e giovani ragazze. Che cosa può fare la società per prevenire, che cosa può fare la scuola, che cosa possiamo fare tutti noi per circondare di affetto, di attenzione questi giovani. Altre due pagine di questo numero sono dedicate all'Africa bollente, l'abbiamo chiamata così. Queste pagine, questi articoli riguardano ovviamente la situazione della Libia, ma un po' tutto anche il Maghreb con degli interventi di persone della nostra diocesi che vivono in quei territori. E per questo numero è tutto, a risentirci.